Open Day al liceo classico Eschilo di Gela. I docenti e gli alunni hanno accolto i genitori e gli studenti delle terze classi delle scuole medie per far conoscere la scuola, la sua offerta formativa, le metodologie e la didattica applicate. Stiamo celebrando l'Eschilo in scena, una manifestazione equivalente a un Open Day, cioè una scuola aperta in una giornata per farsi conoscere dalla comunità. Nella Aula Magna sono pronti i ragazzi che sono venuti a fare visita alla scuola e qualche professore introdurrà il discorso, il preside saluterà gli intervenuti e i ragazzi, specialmente quelli degli ultimi anni, faranno poi, dopo un piccolo spettacolino, da Cicerone alla visita che i ragazzi vorranno fare nella nostra scuola. Siamo felici di essere nella comunità, ci piace che siamo scelti, ma non perché vogliamo avere un numero in più di altri, ma perché siamo convinti che il metodo di studio che si apprende al liceo classico e al liceo dalle scienze umane, oggi parliamo solo del liceo classico, è particolarmente utile per affrontare le difficoltà e i problemi della vita.